Si è riunito il 20 giugno il Comitato Resistenza e Costituzione per analizzare le iniziative svolte nel 2011 e nel primo semestre 2012. Durante l'incontro è stato presentato il prossimo calendario di Voci dei Luoghi, Musiche e Letture della Resistenza nei piccoli comuni montani del Piemonte e sono state raccolte le proposte di programmazione per i prossimi mesi.